Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un nuovo video in cui diamo inizio ad una nuova serie. Dopo la serie dedicata all'occupazione italiana dell'Albania con l'opera di Daniele Notaro recuperiamo questo libro, Alessandro Boaglio, Plotone chimico, cronache abissine di una generazione scomoda. Un libro che raccoglie le note che riporta il diario di Alessandro Boaglio, giovane sotto ufficiale del regio esercito italiano impegnato durante la campagna d'Etiopia. Ne avevamo parlato quando avevo recensito e quando avevo letto alcuni passi del libro di Eric Gobetti intitolato I carnefici del Duce e diciamo che ho deciso di leggervi, di dedicare una serie di video ad uno dei capitoli di questo libro ovvero sia il cammino della civiltà il nono capitolo di questo libro intitolato Il cammino della civiltà allora dovete sapere una cosa il presente allora ci sono alcune note molto 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 importanti allora tenete presente una cosa uno questo capitolo del libro di Boaglio è stato pubblicato come dire è stato parzialmente pubblicato da Matteo Dominioni in Lo sfascio dell'impero e citato anche in alcuni articoli e pubblicato anche da Riccardo Bottoni in L'impero fascista Italia ed Etiopia 3541 c'è come dire ci sono alcune discrepanze ma che poi vengono spiegate nelle note successive qui viene spiegato come si parla praticamente di una rappresaglia effettuata dal regio esercito per l'uccisione del capitano Orenzi e del suo reparto della sua banda di irregolari abissini e praticamente qua ci spiega i curatori ovvero sia Matteo Dominioni e Giovanni Boaglio il figlio dell'autore ci spiegano che sull'episodio in questione non sono stati trovati riferimenti tra i documenti dei diari storici custoditi dal comando Africa Orientale Italiana presso l'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito di Roma dalle ricostruzioni è stato ipotizzato che le operazioni descritte da Boaglio in questo capitolo furono una rappresaglia nei confronti di Abebe Aregai il quale si era da poco tempo ritirato da una trattativa volta alla sua sottomissione Boaglio invece mise in relazione l'uccisione del capitano Orenzi alle operazioni nell'area del mens evidentemente l'autore non era al corrente dei retroscena del negoziato e considerò il ritrovamento dei documenti di Orenzi come scopo delle rappresaglie vedendo tra i connazionali una grande soddisfazione è un paese è un palese errore di valutazione più che una discrasia della memoria in quel periodo gli attacchi contro gli italiani militari e civili in marcia o fissi in presidi e cantieri erano quotidiani i morti negli agguati diversi impossibile per i comandi militari era dare una risposta ad ogni attacco le operazioni che si conclusero a Zeret rientravano in un grande ciclo operativo che in un paio di mesi attraversò lo Shoah allora queste sono le note introduttive per spiegare alcune cose che vengono qui raccontate la normale vita di Fortino Boaglio ci racconta che la normale vita di Fortino fu un giorno scombussolata da un improvviso ordine del Comando Superiore Forze Armate che ci ordinava di partire immediatamente per una sconosciuta località dell'interno dove quattro nostri battaglioni indigeni erano impegnati in un estenuante assedio ad un gruppo di ribelli comandati dal Dejac Teshumet Changoutier che era un comandante partigiano dell'Alto Shoah membro di una famiglia che si diete interamente al movimento clandestino insomma che operò con la resistenza e con i ribelli etiopi perché ricordiamoci una cosa gente l'impero non fu mai pacificato l'impero non fu mai realmente conquistato l'impero era un ribollire di ribellioni e di era un ribollire eh sì era un ribollire di ribellioni rivolte e agguati come ci scrive Boaglio e come testimonia la storia stessa del nostro impero coloniale del nostro disgraziato impero coloniale ma continuiamo la lettura di questo capitolo di Boaglio che ripeto dà il via ad una nuova ad una nuova serie gli antefatti erano i seguenti una nostra banda indigena irregolare al comando del capitano Orenzi era caduta in un'imboscata e distrutta completamente la zona dove il tragico fatto era successo era compresa e delimitata da cinque torrenti dei quali il principale è Labage o Nilo Azzurro affluente del lago Tana durante la stagione delle piogge il vasto territorio era pressoché isolato dal resto dell'impero dall'ingrossarsi pauroso dei cinque fiumi che impedivano qualsiasi traghetto o guado di questa situazione ne approfittava la banda di Teschomè che spadroneggiava nei villaggi recando su una lancia la testa del povero capitano le forze di presidio erano asserragliate su un fortino posto su una cima dominante la sella di Dobà a 1700 metri di quota un centinaio di soldati italiani al comando di un tenente dei granatieri costretti alla difesa e vettovagliati per via aerea col cessare delle piogge quattro battaglioni indigeni erano entrati nella zona e a questi ne erano seguiti altri tre avevano dato fuoco e annientato numerosi villaggi ucciso centinaia di persone ma senza incontrare Teschomè e i suoi uomini 15 giorni prima della nostra partenza il diciannovesimo battaglione era stato violentemente attaccato con morti e feriti ma vano era stato il disperato inseguimento per agganciarli perché i ribelli erano spariti come inghiottiti dalla terra a sera due giorni dopo lo stesso battaglione aveva subito un altro attacco e anche questa volta il nemico era sparito facilitato dall'oscurità comandava il battaglione un magnifico ufficiale astuto e coraggioso un uomo a cui l'Italia doveva la salvezza della spedizione nobile al polo nord caduta sul PAC per il disastro dell'aeronave Italia e per questa azione decorato di medaglia d'oro era il colonnello Sora morto in patria nel 1954 tra l'altro va detta una cosa questa è una nota personale io da ragazzino lessi la storia del dirigibile Italia lessi la storia di nobile lo ammetto guardai guardai anche in televisione il bellissimo documentario dedicato alla vicenda del dirigibile Italia con la partecipazione di Umberto Nobile in persona e credetemi era un documento eccezionale e ricordo bene come parlavano come nei libri dei superstiti soprattutto nel libro di Felice Troiani dedicato che era uno dei superstiti del dirigibile Italia nel libro di Felice Troiani progettista dell'Auti sia del dirigibile Italia che del Norge che del monoplano AUT18 magari ne parlerò dell'Auti o forse ne ho già parlato vabbè lasciamo stare sto divagando dicevo l'allora capitano Sora compì un'impresa epica cercando di raggiungere i superstiti della tenda rossa sul pack ed è realmente un'epopea eccezionale Sora era realmente un eroe era realmente un uomo d'acciaio un autentico Iron Man Berggrills scansati diciamoci la verità allora non c'è il 2 senza il 3 continua Boaglio dice un vecchio proverbio e infatti in pieno giorno resi audaci dal successo dei primi due attacchi i ribelli si gettarono ferocemente sulla retroguardia del diciannovesimo in marcia trovarono subito pane per i loro denti resi sospettosi dall'esperienza dei giorni precedenti e comandati da un sergente maggiore che in battaglia si trovava come a nozze la reazione fu istantanea e violentissima urlando come disperati col sotto ufficiale in testa i nostri Ascari si buttarono verso i ribelli cercando di impegnarli in corpo a corpo l'azione descritta si svolgeva su un immenso pianoro perfettamente livellato ma frequentemente interrotto da profonde voragini simili in tutto e per tutto ai famosi canyon americani voragini prodotte dal lento lavorio delle acque piovane lungo il corso dei secoli sotto l'incalzante azione dei nostri bravi Ascari i ribelli si buttarono a rotta di collo lungo le ripidissime pareti cercando di coprirsi da fuga frecce spugli e le rocce benché animati da uno slancio incontenibile i nostri uomini non allenati e non addestrati dovettero frenare il loro entusiasmo e scendere con più cautela tanto bastò perché giunti in fondo valle dopo un'ora di discesa non trovarono più nessuno il sergente Maggiore Müller raccontandomi poi tutto ciò mi disse che in quel momento avrebbe preferito l'essere preso a fucilate piuttosto che quel silenzio naturalmente il fondo valle era percorso in ogni senso dagli ascari eccitati e delusi e fu allora che i ribelli si tradirono ponendo fine al mistero delle loro repentine scomparse un nostro graduato per meglio dominare il terreno coperto da fittici e spugli si era arrampicato su di un enorme roccione rotolato a valle per azione delle piogge e di là guardando facendosi schermo con la mano guardava verso il punto dove fra le due pareti si congiungevano all'inizio del canyon e ad un tratto fu visto cadere Bocconi aggrappandosi disperatamente alla roccia mentre un colpo di fucile rimbombava in mille echi lungo la valle fu subito soccorso e calato a terra la spalla era intrisa del sangue che fuoriusciva dal foro d'entrata della pallottola da lui che fortunatamente era avvolto verso chi aveva sparato e che non era morto sul colpo come purtroppo doveva accadere a molti dei giorni successivi il sergente maggiore ebbe la preziosa informazione che una nuvoletta di fumo era scaturita una frazione di secondo prima del colpo da una specie di buco che guardando attentamente si scorgeva a metà altezza nel punto esatto della congiunzione delle due ciclopiche pareti dieci minuti dopo il sotto ufficiale aveva col binocolo dal comandante di battaglione poteva constatare che ciò che pareva un buco era in effetti un'apertura di alcuni metri e che un muretto secco perfettamente mimetizzato da rami nascondeva l'apertura di una enorme caverna per farsi un'idea di ciò che era e dove era messa quella caverna maledetta bisogna figurarsi una torta enorme la cui superficie rappresenti la pianura dove il battaglione era stato attaccato dalla quale si è stata asportata una fetta altezza della torta 250 metri e la caverna era posta a 100 metri dal piano superiore e a 150 dal fondo valle un sentiero appena tracciato correva all'altezza della caverna e si perdeva tra salti e dirupi in maniera tale che un solo uomo posto a guardia dell'imbocco della caverna potesse tenere a bada 20 reggimenti essendo il sentiero per 200 metri completamente esposto al tiro la situazione era complessa ma solo il fatto di averli scoperti e imbottigliati aveva reso allegri gli ascari che pregustavano l'ardore del combattimento e la gioia della razzia bloccata l'uscita anche se da lontano il colonnello chiese l'aiuto di altri tre battaglioni che completarono l'accerchiamento dell'intera valle dopo alcuni giorni di inutile assedio fu richiesto l'intervento dell'artiglieria someggiata che intervenne con due cannoni da 65 e 17 i nostri piccoli cannoni da montagna pezzi della prima guerra mondiale che però tutto sommato facevano onestamente il loro lavoro però vi dico subito che è successo una cosa uno dei due cannoni da 65 piazzato sull'alto piano al primo colpo pensò bene di seguire il proiettile e precipitò a fondo valle allegramente seguito da massi e pietrame in un rovinio degno di miglior causa il secondo invece spiazzato a circa un chilometro di distanza e perfettamente protetto da due roccioni sparava infilando buona parte dei proiettili nella caverna dove esplodevano sordamente di notte tutte le mitragliatrici erano puntate sul sentiero e di tanto in tanto lasciavano partire brevi raffiche per evitare eventuali fughe col favore delle tenebre a tutto ciò rispondeva dalla caverna un solo tiratore certamente munito di cecchino perché i suoi rari colpi avevano una precisione sbalorditiva un nostro muntaz era riuscito a portarsi dietro una roccia a 50 metri dall'entrata della caverna e qui aveva intavolato trattative coi ribelli esortandoli a nome del governo italiano ad arrendersi promettendo a tutti salva la vita e in caso contrario sarebbero morti tutti né promesse né minacce valsero a far arrendere quei diavoli scatenati anzi deridevano il nostro muntaz chiedendogli se non avevano abbastanza se non ne aveva abbastanza di calci nel sedere da parte degli italiani e invitandolo a collaborare con loro intanto i giorni passavano e la situazione non mutava anzi per ben due volte elementi ribelli all'esterno avevano dato fuoco alla sterpaglia sperando di far togliere anche momentaneamente l'assedio e si era dovuto faticare non poco per domare l'incendio i nostri Ascari oddio a proposito scusate si dice Ascari o Ascari perché è una cosa che non sono mai riuscito a capire scusatemi allora dicevo i nostri Ascari non abituati né adatti ad una guerra di posizione avevano il morale a terra e avevano chiaramente detto che preferivano l'assalto suicida all'ogorio imposto dall'assedio a tutto ciò vi era da aggiungere 14 Ascari uccisi e 6 feriti dal tiro micidiale del cecchino un ufficiale italiano ferito di striscio alla testa e cosa incredibile cioè sentite questa una pallottola tirata da questo cecchino etiope aveva infilato esattamente la bocca da fuoco del cannone schiacciandosi nella camera di scoppio fortunatamente priva del proiettile cioè cose che succedono in guerra i viveri scarseggiavano per la distanza e le difficoltà di trasporto e un tentativo di rifornimento per via aerea era naufragato miseramente poiché coi paracadute i sacchi di farina e le casse di tè si perdevano nella quasi totalità dei profondi burroni che rendevano il recupero impossibile e senza paracadute i sacchi toccando terra esplodevano come bombe e rimanevano sul terreno siano tre o quattro chili di farina formanti un piccolo cono candido d'altronde non si poteva togliere l'assedio senza prima aver catturato i ribelli perché tutte le popolazioni della zona pur non avendone l'apparenza attendevano l'esito della lotta dandosi poi anima e corpo al vincitore vi era perciò in gioco il nostro prestigio già gravemente scosso dall'ecidio della banda irregolare del capitano orenzi e gli ordini di Addis Abeba ovvero sia di Rodolfo Graziani non si può non citare il nostro amato Rodolfesso dicevo dicevo gli ordini di Addis Abeba erano chiari o vivo o morto tesiomè doveva essere catturato fu così che per rimediare ad una situazione che da penosa poteva diventare tragica con grave scacco per le nostre armi che fu richiesto ed autorizzato sebbene si dicesse a mano in cuore l'impiego del nostro plotone il plotone chimico partimmo comandava la squadra il tenente freda poi vi ero io in sottordine due caporal maggiori e sei soldati dal deposito artiglieria avevamo prelevato cento proiettili da 65-17 ad Arsina che è un aggressivo chimico lacrimogeno irritante delle vie respiratorie e vomitatorio e dal comando dell'aeronautica una bomba C-500T di Iprite che avremmo svuotata sul posto e impiegato l'aggressivo con i nostri speciali bidoncini a scoppio cioè praticamente si portavano dietro una bomba d'aereo da 500 kg come fusto per lo stoccaggio dell'Iprite e l'avrebbero svuotata come dire versando l'aggressivo chimico versando l'Iprite in apposite taniche che avevano i cosiddetti bidoncini che avevano una piccola carica esplosiva questi bidoncini venivano lanciati contro il nemico o lasciati in una determinata zona e la piccola carica esplosiva di cui erano adottati li faceva esplodere nebulizzando l'Iprite come dire nebulizzando l'Iprite in giro bella roba eh vabbè 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 l'Iprite liquido di consistenza e apparenza simile all'olio d'oliva viene irrorata sul terreno con vari mezzi chi ne viene a contatto entro poche ore nota sulla parte eh interessata un arrossamento che si trasforma in vescica un'ora dopo e l'inizio di un dolorosissimo processo canceroso che si espande continuamente dando la morte per setticemia pur essendo difficilissima la cura se preso in tempo e limitato nella vastità si può curare e guarire bene anche se per mesi spunteranno foruncoli in tutto il corpo bella roba vabbè date le caratteristiche dell'aggressivo e lo scopo che si attendeva da noi stanare cioè i ribelli non vi era necessità alcuna di usarli prite ma l'impiego fu ideato e voluto dal tenente freda che così rendeva più emozionante e vistoso il nostro impiego a bordo di tre lancia RO percorremo la strada asfaltata che porta da Massawa sino a Debra Beran sede del comando di settore in quei giorni agli ordini dell'eroico colonnello Lorenzini vero asso della lotta contro i ribelli e che doveva poi cadere alla testa dei battaglioni Amara nella battaglia di Keren del 1941 come generale e qui stiamo per cominciare la parte difficile di questo racconto roba per stomaci forti a Debra Beran pernottammo e al mattino ci inoltrammo su una pista che doveva portarci fino all'orlo dell'abisso che segna l'inizio della zona dei canyons e dei ribelli due autoblinde ci scortavano e giungemmo a Sera a Mendida paese nativo del capo ribelle Abebe Regai attuale ministro della guerra del Negus allora quando Boaglio scrisse le sue memorie erano gli anni 50 e Aileserassie era ancora il Negus d'Etiopia Abebe a Regai ci scrivono le note era il comandante del movimento partigiano soprannominato dagli italiani Piccolo Negus durante gli anni dell'occupazione italiana mantenne contatti con Aileserassie in Esino in Gran Bretagna e dopo la guerra mondiale divenne ministro della guerra poi della difesa nel dicembre 1960 morì nel corso dell'attentata rivolta capitenata dai fratelli Devai la tormentata storia dell'Etiopia volete saperne qualcosa di più andate sul canale di Gioele andate sul canale della biblioteca di Alessandria e riguardatevi la serie sulla storia dell'Etiopia molto interessante e molto completa che ci può aiutare a capire anche certe cose del paese africano qui terminava la nostra penetrazione pacifica favorita anche da una missione della consolata stabilitasi molti anni prima della nostra occupazione la pianura era sempre la stessa uniforme e monotona ma i radi gruppi di Tukul che si incontravano erano tutti bruciati e non si vedeva una persona da questo punto avevano cominciato l'azione i battaglioni ora impegnati nell'assedio Boaglio qui si riferisce ai villaggi a nord di Debra Brehan paese dove fu posto il comando di un ciclo di rastrellamenti diretti verso il fiume Mofer ai quali presero parte sei battaglioni più quattro di riserva e tre gruppi di bande amara di guerrieri eritrei al servizio italiano giungemo così a Denneba un grosso paese dominato da un fortino residenza di un centinaio di camice nere il paese è situato al limite della piana subito dopo infatti con pareti vertiginose si apre un vasto antiteatro formante una immensa vallata qua e là interrotta dalle ambe caratteristiche veri torioni dalle cime a terrazzo perfettamente piane e della stessa altezza della pianura sulla quale eravamo noi messi là a indicare come nei lontani tempi ne fossero parte integrante il nostro arrivo fu salutato con gioia dalle camice nere che si adoperarono in tutti i modi per rendersi utili la loro vita in quello sperduto paese era quanto mai monotona e pericolosa per i continui attacchi di cui erano oggetto ogni qual volta si avventuravano fuori dal paese speravano anche loro in noi affinché eliminato il capo ribelle potesse tornare la tranquillità anche per loro partimmo prima dell'alba e arrivamo così a Noari che dista due ore di macchina di primo mattino qui già pronto per la partenza ci attendeva al completo il settantesimo battaglione indigeno che doveva scortarci fino a destinazione l'imponenza della scorta mi diede idea di ciò che dovevamo affrontare ci accolse con un gran sorriso il maggiore comandante piccolo e scattante come un giovinetto dandoci il benvenuto mi diedi da fare alla cremente con i miei soldati per travasare l'iprite dalla bomba ai dodici bidoncini e in meno di un'ora tutto era fatto compreso il sotterramento di quello che era rimasto al fine di evitare contagi contagi pericolosissimi si avvicina il momento dell'entrata in azione del lotone chimico del sergente Boaglio questa prima parte del capitolo questo primo video di questa serie basta diciamo abbondantemente per farci capire la situazione in cui era l'impero dopo la conquista italiana una conquista che ripeto era soltanto di nome il territorio non fu mai completamente pacificato l'Etiopia è grande e controllarla tutta in maniera capillare era pressoché impossibile perché le difficoltà di un terreno montuoso le difficoltà delle quote elevate perché gli altopiani etiopici arrivano tranquillamente oltre i mille metri se non oltre i duemila quindi le difficoltà geografiche climatiche ambientali rendevano terribile e difficilissima la vita dei presidi e come abbiamo visto i ribelli che conoscevano perfettamente il territorio in cui vivevano e operavano si nascondevano si rintanavano colpivano e sparivano colpivano e sparivano colpivano e sparivano la guerriglia la guerriglia etiopica fu durissima ferocissima e decisamente decisamente ben guidata cioè noi siamo abituati noi occidentali noi italiani siamo abituati a considerare gli abissini come vabbè i selvaggi con la lancia ma i selvaggi con la lancia che combattono né più né meno come si combatteva nell'antichità nel medioevo nel insomma con la lancia con la spada e quant'altro invece siamo sinceri gli abissini gli etiopi erano guerrieri coraggiosissimi e i passi di boaglio direi che sono abbastanza eloquenti in materia dicevo gli abissini popolo guerriero guerrieri con condottieri tutt'altro che scarsi come sempre per informazioni citofonare badoglio dato che durante la conquista dell'impero alcuni ras soprattutto d'està e in mirù gli diedero parecchio filo da torcere alle nostre truppe e ripeto questa descrizione dell'appostamento del nascondiglio dei ribelli etiopi la dice lunga sulla loro abilità nel condurre quella che viene chiamata guerra asimmetrica la guerriglia colpisci e scappa colpisci e scappa ora colpisci qui ora colpisci là ora il presidio ora la banda il reparto coloniale che presidia il territorio ora una caserma ora il presidio ora un soldato italiano rimasto imprudentemente da solo e questo è oggettivamente la guerriglia e la guerriglia gli etiopi la sapevano fare dannatamente bene perché ripeto a livello di coraggio erano cioè come dire era assolutamente indiscutibile il loro coraggio e da quello che ci dice Boaglio era anche altrettanto indiscutibile la loro abilità nell'uso delle armi da fuoco dato che c'era questo cioè come ci racconta Boaglio c'era questo cecchino etiope dall'ottima mira che colpisce diversi soldati e ferisce un ufficiale italiano e ci dà subito l'idea di una guerra dura pesante di una guerra terribile di una guerra violenta e feroce perché quello fu la guerra in Etiopia in Abissinia ed Etiopia una guerra violentissima una guerra ferocissima e senza esclusione di colpi come vedremo nei prossimi video spoiler preparatevi a cose per stomaci forti tutto qua quindi cari signori adesso tocca a voi come sempre qua sotto commentate fatemi sapere che cosa ne pensate e ripeto insomma questa serie sarà bella tosta a livello emotivo perché ci sono cose terribili da raccontare ve lo anticipo subito non sarà una serie per tutti tutto qua quindi ripeto qua sotto commentate fatemi sapere che cosa ne pensate e tanto per cambiare come sempre come al solito più di sempre e più del solito un abbraccio enorme e alla prossima al mio prossimo video ciao ciao